Oggi parliamo di alcune differenze software molto molto interessanti e particolari tra la Model 3 Highland e la versione precedente di Model 3 e la Model Y. A tra poco! Bentornati a Lampi di Tesla! Oggi dedichiamo la puntata a vedere quali differenze software attenzione software e basta non hardware che ci sono tra la Model 3 Highland e la Model Y per esempio perché lo facciamo perché intanto io non ho ancora avuto modo di vederla dal vivo e di provarla ma grazie ad alcune segnalazioni vostre e alla lettura del manuale il confronto tra un manuale e l'altro ho trovato alcune differenze a livello software che potrebbero anche poi essere travasate nelle attuali Model Y e precedenti Model 3 e ora capirete il perché perché alcune sono anche un po' bizzarre e ora comincerei dalla prima che forse diventa anche un po' fastidiosa ma andiamo a vedere e poi vi spiego perché è fastidiosa parliamo dell'assistente al controllo della velocità cosa significa significa che l'auto legge i cartelli stradali oppure prende il limite di velocità direttamente dalle mappe e Tesla fa entrambe le cose e ci segnala se stiamo superando il limite bene con la mia Model Y quindi parliamo del vecchio tra virgolette ok software vecchio diciamo questo andando a vedere sul manuale effettivamente effettivamente anche sul padone è così abbiamo la possibilità di scegliere fra tre modalità off quindi il padone non ci dice niente display e in particolare quella che uso io dove il padone ci fa vedere il limite di velocità e quando lo superiamo si ingrandisce leggermente insomma ci fa vedere che stiamo superando il limite e poi il segnale acustico quindi nel momento in cui superiamo il limite c'è un segnale acustico e attenzione all'ultima nota in fondo l'impostazione scelta viene mantenuta fino alla successiva modifica manuale quindi quando voi lo impostate così rimane finché lo volete cambiare che cosa cambia con la Model 3 Highland il fatto che questo menu non esiste più praticamente la macchina va a prendere come detto prima il limite di velocità e ce lo fa vedere quando il limite di velocità è sicuro quindi non è dubbio questo lo vediamo dopo nella schermata viene mostrato nella parte in alto a sinistra del cartello un piccolo altoparlante questo altoparlante indica che se superiamo il limite per 5 secondi c'è un cicalino che ci avvisa che stiamo superando il limite poi si spegne da solo oppure se torniamo all'interno del limite si spegne da solo se vogliamo spegnerlo dobbiamo toccare quell'altoparlante e rimane spento praticamente per tutta la nostra guida finché poi rimettiamo in parcheggio ma quando poi riandiamo a guidare successivamente si riattiva esattamente come era prima quindi se noi vogliamo togliere l'avviso ogni volta dobbiamo andare a toccare l'altoparlante poi ci sono i casi in cui il limite è presunto e i casi in cui c'è il guasto al sistema vabbè lo fa vedere perché dico fastidioso? perché in un mondo perfetto dove i limiti sono tutti corretti dove la macchina legge perfettamente tutti i limiti ben venga che un cicalino ci avvisa se stiamo superando il limite ma poi nella realtà dei fatti quante volte magari abbiamo trovato un cartello di lavori lasciato, abbandonato e allora magari dove effettivamente c'è il limite 90 la macchina legge 30 per esempio e quindi qui ci avviserebbe ecco non so perché Tesla abbia deciso di togliere il menu di scelta e effettivamente attivare a ogni guida il cicalino del limite mi viene il dubbio che riguardi l'obbligo di legge di mettere un avviso e questo è un obbligo materialmente per le macchine nuove sul limite di velocità le case automobilistiche hanno la scelta di decidere dall'avviso fino addirittura al limitatore e magari Tesla l'ha interpretato in questo modo ma mi viene ancora di più il dubbio che con un aggiornamento software un bel giorno questo menu venga tolto anche da tutte le altre macchine perché è solo software, puramente software e che quindi tutte diventino come la Highland non lo so andiamo avanti quindi modalità di arresto io avevo fatto un video per spiegare le tre modalità di arresto presenti sulla mia attuale auto e sulle Model 3 precedenti dove le modalità di arresto attenzione non di frenata rigenerativa solo a basse velocità erano tre o lo sono ancora sulla mia auto e sono creep quindi simula il cambio automatico quindi noi quando ci fermiamo la macchina quando lasciamo il freno la macchina va avanti piano piano poi c'è la frenata quindi quella che uso io per esempio dove lasciando completamente l'acceleratore l'auto arriva a fermarsi completamente e poi c'è movimento dove comunque l'auto non viene sospinta come in creep e non si ferma completamente ma sotto una certa velocità continua a scorrere fino a poi a fermarsi quando l'inerzia finisce questo menu non è più presente sulle Model 3 Highland quindi l'auto funziona solo ed esclusivamente nella modalità frenata quindi dove lasciando l'acceleratore l'auto si ferma completamente anche in questo caso secondo me è la modalità in assoluto migliore però comunque ognuno dipende come si trova meglio anche in questo caso è semplicemente software quindi non è chiaro il perché Tesla lo abbia tolto nella Model 3 Highland ora invece una piccola differenza per le modalità di accelerazione bene se andiamo a prendere il manuale vecchio tra virgolette abbiamo la modalità soft la modalità standard e la modalità sport dove parla specificamente del modello performance nel manuale invece della Highland sono citate solo la soft e la standard perché non è previsto il modello performance almeno fino a ora poi si spera che aggiornino il manuale quando speriamo uscirà il modello performance ora invece parliamo di climatizzazione e qui si infittisce il mistero sull'Highland perché è una funzionalità di cui si è parlato ne hanno parlato i giornalisti durante la presentazione però materialmente nessuno l'ha fatta vedere quindi voi che l'avete ritirata fatemi sapere se funziona ma vi spiego anche come provare parlo della climatizzazione del passeggero che sulla mia attuale auto non si può spegnere se c'è qualcuno seduto sul sedile passeggero quindi il sensore di pressione è attivato la climatizzazione la ventilazione del passeggero è per forza attiva se andiamo infatti a prendere il manuale della mia dice semplicemente toccare per regolare il flusso d'aria erogato dalla bocchetta anteriore vedere ventilazione parliamo del passeggero se invece andiamo a prendere il manuale della Highland c'è scritto toccare per regolare il flusso d'aria del bocchetto anteriori quando il sistema di climatizzazione è in funzione è possibile disattivare la bocchetta del passeggero anteriore in modo indipendente rispetto a quella del conducente quindi viene citato specificamente nel manuale se volete provare dovete far sedere qualcuno di fianco a voi e in teoria andando a toccare il flusso si dovrebbe spegnere quindi fatemi sapere se funziona oppure no anche in questo caso è semplicemente software perché materialmente se io sono seduto da solo nella mia auto la ventilazione del passeggero è spenta quindi la macchina lo può fare anche qui non si capisce perché le vecchie no la nuova sì magari lo aggiornano poi una cosa di cui avevamo già parlato è l'avviso sonnolenza del conducente questa funzione è presente nella nuova Model 3 Island e non è ancora presente sulle vecchie anche in questo caso parliamo semplicemente di software e basta perché si basa sulla telecamera interna e ovviamente sul comportamento al volante e quindi mi aspetto che anche questa funzionalità venga implementata sulle vecchie auto comunque molto interessanti queste differenze che ripeto sono solo a livello software quindi bisogna capire un po' soprattutto la questione della velocità perché Tesla abbia deciso di impostare il menu in questo modo staremo a vedere se magari non so dico dal primo gennaio per una qualche limitazione legale verrà implementato anche sulle vecchie auto non lo so sinceramente dico la verità spero di no ma non perché non si debbano superare i limiti ma come dicevo prima purtroppo capita che i cartelli non siano effettivamente rispondenti sempre al limite reale comunque staremo a vedere questo è tutto per oggi io vi ringrazio come sempre ma ho un'altra cosa da dirvi lampi di Tesla maglietta forse domani c'è una sorpresa intanto vi rimando allo shop date un'occhiata questo è tutto per oggi io vi ringrazio come sempre e ci vediamo alla prossima ciao